Privé nasce da una collaborazione tra Progetto CMR e RS Line. Le forme di Privé sono state studiate per dare una risposta a un tema acustico che ancora non era risolto. Il lavoro all'interno degli uffici è cambiato e sta cambiando notevolmente. Si parla di Smart Working e questo Smart Working genera degli spazi che, diversamente dal passato, sono di socializzazione, sono connotati da colori e forme più vicine al mondo domestico, ma soprattutto creano l'esigenza di dare una sorta di privatizzazione a chi fruisce di questi spazi. La scelta dei tessuti, dei colori, è stata pensata proprio per dare un'immagine la più domestica possibile a questo prodotto. Dal punto di vista estetico è stato disegnato cercando un'armonia delle forme. I vari elementi che compongono Privé possono consentire diverse modalità di utilizzo. Si possono creare spazi di lavori informali, riunioni temporanee, phone booths privati dove andarsi a riparare per svolgere una telefonata privata. Le prime verifiche sono state effettuate in occasione della presentazione del prodotto al suono e del mobile, dati che poi sono stati confermati successivamente grazie a prove di laboratorio che hanno certificato l'efficacia acustica di Privé. Privé è quindi un prodotto versatile che può essere collocato in diversi spazi che vanno dall'ufficio ovviamente, ma anche all'interno degli hotel, nelle reception, nelle stazioni, negli aeroporti, in tutti quegli spazi pubblici dove l'esigenza di connotazione degli spazi o di risoluzioni di temi acustici sono importanti. Grazie 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 Grazie